Lodovica Comello dopo il grande successo di Italia's Got Talent e dopo l'arrivo di Teo, rivela qualche dettaglio in più sulla sua vita. Mi affido a ciò che capita. La conduttrice Lodovica Comello è una delle professioniste della TV più apprezzate del pubblico. La sua briosità e il suo carisma hanno fatto pieno centro sin dai suoi esordi e hanno conquistato il cuore della platea televisiva. La sua capacità di intrattenere i telespettatori ha fatto sì che la sua popolarità crescesse in maniera esponenziale in un lasso di tempo relativamente corto. La sua carriera ha spiccato il volo dopo la sua partecipazione nel 2011 alla serie, Violetta, dove ha conosciuto quello che poi sarebbe diventato suo marito Thomas Goldschmidt che all'epoca era direttore di produzione. Dopo il grande successo in TV con Italia's Got Talent durante un'intervista Lodovica ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua vita privata. La conduttrice ha sposato Thomas nel 2015 e lo scorso anno il loro amore è stato coronato dall'arrivo del primo genito, il bellissimo Teo. Riguardo il suo ruolo di mamma e moglie, Lodovica rivela che suo marito l'ha aiutata a smussare alcuni lati del suo carattere e che per certi versi l'ha aiutata a migliorarsi. Mi ha trasmesso la sua spensierata argentinità, insegnandomi che non tutto può essere calcolato, ha ribaltato il mio modo di essere. Adesso sono una che si affida a ciò che capita, che non contrasta più di tanto gli eventi, queste le parole della conduttrice al settimanale, intimità. Sulla possibilità di diventare mamma bis, Lodovica afferma di non pensarci al momento ma che, data la sua giovane età, non si preclude alcuna possibilità. Sulla possibilità di diventare mamma bis, Lodovica afferma, ha il mio modo di essere.